Per me Udinese è una buona squadra, è vero che hanno cambiato tanto rispetto agli altri anni, però anche due anni fa sono partiti con cinque sconfitte di fila e sono arrivati in Champions, quindi è una squadra che è sempre una squadra che bisogna rispettarla per quello che è. Io non credo che Udinese sia in difficoltà, è vero che non hanno raggiunto grandi risultati finora, però è sempre una squadra che se la gioca, io mi ricordo anche la partita di Napoli che hanno perso, hanno dato tanto difficoltà a Napoli, né Osvaldo né Destro non riescono a esprimersi al meglio sulla fascia destra. Ma è il discorso che dico da due mesi, però ancora non ci volete capire. Vabbè sul discorso di Agnelli penso che ha ragione, che ci vogliono riforme, che ci vuole migliorare, il discorso che lo dicono tutti non è solo Agnelli, poi magari altro discorso che vent'anni di calcio l'hanno avuto in mano loro, quindi c'era tutto tempo di fare le migliorie.